14 settembre 1960, istituzione dell'OPEC. Sono cinque i paesi a firmare a Baghdad la nascita dell'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Iraq, Iran, Arabia Saudita, Kuwait e Venezuela. Si sono aggiunti in seguito Libia, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Nigeria, Gabon, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Qatar, Ecuador, Indonesia. La sede è stata trasferita a Vienna. I paesi membri dell'OPEC costituiscono un cartello che coordina le politiche di produzione ed esportazione del petrolio. A tale scopo la conferenza media tra i loro interessi e ne protegge le economie contrastando le flessioni del prezzo del barile e mediante la fissazione di quote massime di produzione per ciascun paese. Nel corso della seconda metà degli anni 90 e dei primi 2000, l'organizzazione ha più volte rivisto gli accordi sulla produzione garantendo un mercato stabile del petrolio a prezzi calmierati, dato il notevole aumento di questi dovuto alla forte domanda da parte dei paesi emergenti, soprattutto la Cina.